Regione Marche, cultura, turismo inevitabilmente, tutto questo fa rima con lo Sferisterio, una grande stagione al via, la Regione Marche come sempre è accanto a Macerata. Sicuramente un'ulteriore grande stagione che viene organizzata dallo Sferisterio, questo è il giusto binomio che sempre diciamo cultura e turismo, perché lo Sferisterio oltre che lanciare un grande messaggio a livello nazionale e internazionale per quello che riguarda l'evento stesso culturale, però è per la Regione Marche un grande volano promozionale, allora la Regione Marche sicuramente attenta e inserita in questo progetto fortemente, stretta collaborazione con la città e con l'amministrazione di Macerata, proprio perché riteniamo che questi messaggi in questo momento siano fondamentali per tenere alta l'asticella della nostra Regione a livello nazionale e internazionale per promuovere queste bellissime nostre terre.